Alle elementari c'era un mio compagno che ci provava con crush e un giorno gli disse se voleva essere la sua ragazza. Lei disse no e io ho goduto come un riccio anche perché quando glielo ho detto io disse sì e ci siamo fidanzati e fino alla quinta elementare glielo rinfacciavo.